Nei fatti, ma anche quando poi sono stato a scriverla, questo è l'idea. Faccio un bellissimo sculto per cercare di capire come funziona questa. Faccio una faccenda del mio ingresso nel mondo di cose che scrivono, ho preso uno di parte. Ho scritto quattro libri che sono qui sopra. Il primo l'ho scritto pensando ai figli, cioè pensando di dare i miei ricordi ai figli e non pensavo di allargare troppo la cosa. E' tratta del mio arrivo in Sardegna dove io avevo chiesto di andare, perché allora la Sardegna sembrava una specie di west americano orientato in Italia, scontato con i banditi micidiali, eccetera. E io ero giovane e ho pensato di vedere un po' di che si tratta. E ho chiesto questo trasferimento. E lì mi sono reso conto che alcune cose erano vere e molte altre non lo erano affatto. Questo mio lavoro di pensare mi ha messo in contatto con un'amministrazione che evidentemente non aveva i miei stessi modi di pensare. E questo ha provocato una specie di tentativo di messa fuori gioco e mi ha dato la direzione di un piccolo commissario a Calvi, in mezzo a una zona criminale, con pochissimi uomini, la maggior parte anziani, un altro po' attualizzati, e comunque di questo gruppo di persone e altri sovversibili con fondi dell'amministrazione che non era stata madre, ma era stata matriglia. Ebbene, piano piano lavorando su questo materiale, ho tirato fuori un ufficio che invece ha trovato il modo di diventare una specie di agenzia anticlimine, di superare tutti gli ostacoli che venivano messi in entro e di fare in queste, non soltanto in Sardegna, ma in tutto il resto dell'Italia e all'estero. Di questo io parlo nel primo libro, che si è intitola giusto e giusto, a dimostrazione di questo, il secondo libro dice come noi siamo andati addirittura in Pai Gambia a fare delle operazioni sul porto, nel triangolo dove si produce la droga. Dove si produce la droga. E questo libro infatti è intitolato Thai Connection, cioè la connessione tailandese, che era diretta con una banda di caglialitani. Abbiamo risolito, diciamo, tutto il filo, ci siamo finti, mi sono finto acquirente, e poi la cosa è finita con un'operazione militare, perché c'è stato un intervento da parte dei reparti tailandesi. E questo diposta che in effetti questo ufficio era andato ben al di là di quello che si pensava. E questo dava sempre più fastidio a molti. I libri più interessanti però sono il terzo e il quarto. E cioè nel terzo, per un caso abbastanza fortuito, una mia pattuglia aveva trovato una cieca che guidava, cioè era una cieca civile che però c'era pure la patente. Scusate, io ogni tanto indulgo al romano, dopo tanti anni in Sardegna parlo ancora un po'. E partendo da questa cosa che era banale, cioè sembrava una cosa banale, sciocca, piccola, in realtà abbiamo messo le mani su una delle radici di cui parlo. Che sono queste radici? Sono la dimostrazione concreta di una struttura che non si conosce, normalmente non si sa, di uno Stato sotto lo Stato, ma uno Stato criminale, cioè organizzato per governare di fatto senza avere nessun consenso, né degli elettori, né del Parlamento, né del Presidente del Consiglio Riturno. E quindi praticamente questo, questo come è avvenuto? Risalendo tutta la catena delle varie complicità che ci sono, che c'erano allora nella motorizzazione civile. Il che ha portato a arrestare quasi tutti i funzionari della motorizzazione civile di Cagliari, che è stata praticamente paralizzata per qualche tempo, e poi da questo acquisire documenti che ci hanno portato a indagare a Roma, nella direzione centrale. In questa indagine è stato attestato il capo di gabinetto del Ministro dei Trasporti ed è stata ottenuta la richiesta dal Pubblico Ministero di un mandato di cattura nei confronti del cognato del Presidente Andreotti. Allora era Presidente, ingegner danese, che era evidentemente il vertice di tutta quanta questa organizzazione, di questa radice, radice analoghe, che ne abbiamo trovate anche successivamente, anche nella magistratura. Immaginate un qualcosa di tentacolare che mette, diciamo, le sue propaggini un po' dappertutto. Secondo la mia opinione, secondo quello che è venuto fuori dall'inchiesta, come funziona questo Stato sotterraneo? Con ricatto. E cioè, chi è stato per tanto tempo al governo? Per tanto tempo è stato Ministro un po' di tutto. Per sette volte è stato Presidente del Consiglio, ha avuto modo di piazzare in tutti i posti importanti della pubblica amministrazione ed anche della magistratura alcune mele marce. Perché mele marce? Perché la vera marcia è ricattabile, è una persona che sa di non avere il posto che merita, ma gli è stato elargito, sa pure che può rubare, può acchiappare quanto più vuole in quel posto, ma ha un dovere assoluto nei confronti di chi l'ha messo lì. Perché se non lo fa, questa persona che l'ha messo lì, ha un dossier. In questo dossier ci sono tanti fascicoli numerati e quando serve qualche cosa in una qualsiasi amministrazione basta prendere un fascicolo e dire tu devi fare così. Quello che è dall'altra parte del telefono lo fa. Perché? Perché sa che ci sono tutti gli scheletri nell'armadio che lui ha conservato per tanto tempo. Questo si è proiettato in maniera estremamente intelligente perché noi parliamo di una persona che ha un'intelligenza superiore, non solo, ma ha anche una capacità di controllo dei propri nervi e la previsione di quello che può succedere pressoché assoluta, noi vediamo che è un sistema che può inquinare tutta la vita sociale italiana. Perché poi dall'altro il cittadino da chi prende il là per conformarsi nel comportamento dalla classe dirigente, da quelli che contano. E chi sono quelli che contano? Chi muove tutta quanta questa cosa? è qualcuno senza scrupoli. Per cui io ho visto, io che sono piuttosto vecchiotto e ho vissuto anche durante la seconda guerra mondiale, ho visto il tessuto sociale italiano cambiare. Io ricordo dopo la fine della seconda guerra mondiale dei comportamenti molto morali, intendo morale laica, mi scusi, morale laica, molto morali, una certa sincerità, sapere qual è il tuo e qual è il suo, rispettare i parti, e cose di questo genere. Ho visto degradare piano piano questa società, e lo sa chi è più anziano qui fra noi forse, ma forse anziano come me no, l'ha vista degradare a modello, prendendo a modello chi dirigeva. E quindi a cancellare tutti quelli che mio padre mi aveva detto che erano valori, l'onestà, la sincerità, il senso del dovere, il senso dello Stato, il senso della giustizia, tutto cancellato. Quello che importa è fare danaro. E questo lo dobbiamo anche all'opera sotterranea di questo Stato clandestino. Il quarto libro, che è quello che poi avrebbe dovuto essere presentato, invece vi ho parlato ancora di quegli altri, vede la saldatura del sistema di cui parliamo, di questo Stato sotterraneo, di questo sistema politico sotterraneo, con la criminalità organizzata. Perché è diventato indispensabile per i rappresentanti di questo sistema così ramificato togliere di mezzo persone scomode. Voi ricordate questo nome, Pecorelli? Pecorelli è stato ucciso e aveva già progettato, aveva già in macchina una copia del suo settimanale, un mensile, lo ricordo bene, che parlava di assegni che erano filtrati alla banca della Magliana. E lui è stato ucciso. Va bene. Il generale Carlo Alberto dalla Chiesa è stato ucciso per motivi analoghi. perché quando è stato interpellato era stato fatto super prefetto per andare a Palermo ma senza alcuna struttura potente in mano fu chiamato a colloquio dal personaggio di cui noi parliamo in questo libro che gli chiese di lasciare in pace i suoi adepti siciliani. Il generale rispose no perché era una persona onesta, era una persona per bene, sapeva che andava lì a fare un dovere. Questo non gli è costato la vita a lui, alla moglie e alla scorta. Quindi noi in questo quarto libro cosa succede? Che io a Cagliari avevo messo su un buon sistema antidroga cioè avevamo un po' tutte le notizie importanti nel traffico di stupefacenti. A un certo punto questa droga che prima veniva dalle raffinerie in Arsigliesi ha cominciato ad essere diversa e veniva direttamente dalla Sicilia la cosiddetta Brown quella marroncina per chi non la conosce è un tipo di droga con molta caffeina con molta impurità dentro e che però costa di meno parliamo di eroina e su questa pista abbiamo prima individuato quelli che a Cagliari erano il caposaldo di questa struttura quando abbiamo deciso però volevamo sapere da dove arrivava e chi controllava e abbiamo messo le mani sul personaggio siciliano che la mafia aveva messo a Cagliari per controllare questo traffico di stupefacenti quindi responsabile delle consegne e delle discussioni quando abbiamo deciso abbiamo arrestato tutti quanti e io ho avuto la fortuna di capire che questo personaggio si era troppo abituato a una vita diversa da quella che faceva in Sicilia aveva molti soldi una bella casa una bella vita donne champagne per cui stare in carcere per una ventina d'anni come gli si prospettava non gli andava per niente il che significa che gli ho lanciato un po' un esca se vuoi parlare con me chiedi al procuratore della Repubblica questo ci ha riflettuto un po' e alla fine è avvenuto che tramite la magistratura ha chiesto di parlare con me in carcere e lì è cominciata la sua collaborazione in cambio di una libertà provvisoria in attesa di giudizio cosa del tutto legittima cioè se uno confessa tutto quello che fa se non ci sono necessità istruttorie di altro tipo è possibile ottenere la libertà provvisoria e io mi sono fatto garante di questo e in effetti gli è stata concessa però tutto questo c'era un accordo fra noi non è che libertà provvisoria teneva i dove di pare no libertà provvisoria è pieni da noi e cominciamo a registrare tutto quello che tu devi dire quindi l'abbiamo piazzato in un albergo e abbiamo cominciato a registrare tutto quello che lui diceva ed erano cose di estremo interesse ad esempio noi parlavamo prima soltanto di mafia e lui ha detto guardate non è mafia il nome è Cosa Nostra quindi la prima volta che è stata chiamata col suo nome Cosa Nostra è stata allora e poi ha fatto delle rivelazioni estremamente importanti per quanto riguarda connessione fra politica e delinquenza organizzata ha fatto anche i nomi di quelli che hanno ucciso materialmente il generale dalla chiesa e ha dato tutto un accumulo di informazioni che per me che non ero siciliano che non avevo lavorato ancora in Sicilia erano tutte cose da accertare da vedere per cui che cosa è successo che sono andato sono stato delegato dal procuratore della Repubblica Villa Santa a fare questa inchiesta e mi sono spostato a Palermo però a Palermo la situazione era abbastanza complessa perché se tu sbagliavi a parlare con qualche persona era una cosa molto grave sono stato indirizzato dal procuratore a parlare direttamente con Giovanni Falcone ma non al Palazzo di Giustezza a casa sua una casa che veramente non ho mai capito come facesse abitarci perché era una specie di bunker sotto un palazzo trovato di cemento con un lungo corridoio senza porte con una porta blindata in fondo senza luce senza niente con una garitta fuori con degli agenti che facevano la guardia e questo abitava là dentro e là dentro aveva la maggior parte dei fascicoli importanti interessanti che lui stava trattando da Falcone ho saputo che in questura avevo gli stessi impacci che c'erano stati con la magistratura e cioè non parli con nessuno parli esclusivamente con il dottore Cassarà Ninni Cassarà e così ho fatto ho incontrato Ninni Cassarà e lì abbiamo gli ho rivelato tutto quello che era venuto fuori da questa inchiesta e la chiave di tutto questo libro sta nella profezia che lui ha fatto ha detto ma tu lo sai che significa Nino e Ignazio Salvo cioè i due personaggi politici di cui mi era stato rivelato il nome non come politici o come riscossori delle imposte per tutta la Sicilia come erano allora ma dei veri e propri capi mafia responsabili del mandamento di Salemi la mafia cioè Cosa Nostra divide tutta la Sicilia in mandamenti i capi di mandamento fanno parte della cupola e la cupola è quella che decide vira morte delle persone che gli capitano fra i piedi ora queste persone da tutti erano più o meno stimate come politici connessi alla corrente primavera che faceva capo appunto a Giulia Andreotti e e invece da parte della mafia erano capi di mandamento quando Castarà ha detto tu sai di che cosa stai parlando quando parli Nino e Ignazio Salvo dico no io sto in Sardegna non ne ho ancora contenza cioè di queste cose non mi sono interessato e lui mi ha risposto guarda questi nomini significano Andreotti e Andreotti significa che ci uccidono a tutti è stato profetico perché fra tutti coloro che hanno partecipato naturalmente ad alto livello a questa inchiesta tutti sono stati uccisi e io sono l'unico sopravvissuto giovandomi di cose casuali io lavoravo stando in Sardegna e facevo dei blitz in Sicilia però poi immediatamente dopo tornavo in Sardegna ora la Sardegna è un posto un po' particolare ha un tipo di delinquenza che non ammette troppo intrusioni straniere per cui cosa cioè se fosse arrivato qualcuno con un disegno offensivo in qualche modo me l'avrebbero fatto sapere cioè per fare un omicidio in Sicilia a Palermo o comunque dovunque in Sicilia è una cosa per la mafia molto facile programmarlo in una struttura non propria come quella Sarda poi molto particolare molto individualista capace di ricordare i torti all'infinito eccetera era una cosa più difficile e questo è stato il primo vantaggio il secondo vantaggio è che io avevo imparato proprio da questo collaboratore a non dire mai quando arrivavo non dire mai quando partivo a cambiare nome a fornirmi i documenti fasulli a mettere in un'altra targa la macchina per cui non si sapeva quando arrivavo quando ripartivo né cosa facevo e questo tutto sommato è stata la chiave per cui poi alla fine mi sono salvato non si è salvato Falcone sapete tutti com'è finita la faccenda di Falcone e non si è salvato Montana che era un filo collaboratore di tutti i colori di quelli che lavoravano in questa inchiesta non si è salvato Rocco Chinnice che era il capo di Falcone nessuno di questi si è salvato così come non si sono salvati due valorosi capitani dei carabinieri che sono stati uccisi anche essi perché avevano messo il naso nella faccenda Nino Ignazio Salvo l'ultimo di cui ho sentito particolarmente il peso e chi legge il libro lo capirà perché è stato il capitano da Leo era una persona che ci aveva 27 anni quando è stato ucciso 29 29 anni quando è stato ucciso ecco meno male che c'è lei se lo ricorda io mi avevo un po' confuso va bene quindi questo libro potrebbe essere tranquillamente intitolato La profezia perché Nenni Cassara ha seccato tutto e nonostante ciò nonostante avesse fatto sulla propria pelle questa profezia ha continuato ad andare avanti incurante di quello che avrebbe potuto succedere ma addirittura di quello che aveva previsto lui l'aveva previsto e secondo me è stato l'eroe più eroe di tutti quanti gli altri gli altri pensavano che potevano essere uccisi ma non erano sicuri lui era sicuro e ha preso la cosa come se parlasse di una cosa normale io sono rimasto impressionato ho detto ma tu dove hai fatto l'università Oxford perché lui tra l'altro era una persona estremamente elegante vestiva in maniera inescepibile insomma sempre con la gravata sempre in vestito sempre no invece aveva fatto la sua scuola dai preti guarda un po' e quindi poi a un certo punto aveva deciso di fare il poliziotto per vocazione ecco allora tutto questo se volete saperlo insomma magari in un'occhiata a questo libro vorrebbe la pena darlo perché io faccio nome e cognome perché quello che dico è basato su atti che sono reperibili presso i tribunali perché sono stato diretto testimone ed accusa al maxiprocesso di Valermo c'è ancora se uno va su internet e vede Radio Radicale sente la mia voce quando vengo interpellato dal presidente quindi le cose che dico sono accadute sono vere i nomi che faccio sono quelli e forse dico forse perché l'arte del poliziotto è quella del dubbio come dicevo alla signora forse tutto questo mi è costato non avere un editore alcuni editori molti editori anche molto importanti sono interessati di alcuni di questi libri ci sono stati viaggi sono andato avanti e dietro su richiesta di questi editori a Roma con tanto di aereo eccetera tutto era pronto e poi evidentemente è arrivata la telefonata giusta e tutto è fallito non si sono più sentiti loro diritto perfetto però questo mi ha costretto a stampare questo libro se volevo farlo leggere direttamente da me a casa con una stampante laser due ore di laser per fare un libro e altre due ore per fare copertina cose eccetera poi a un certo punto ho deciso che non ne potevo più e ho fatto stampare questi libri non a un editore a uno stampatore a uno che tu telefoni mi mandi i file sì ecco questi sono i file lui ti fa i libri quante copie vuole tante e tu sei lettore di te stesso attraverso questo sistema sono arrivato a comunicare con gente come voi cioè con gente che vuole sapere la verità su alcune cose pensate che io sono responsabile di tutto quello che c'è scritto in questi libri e probabilmente chi avrà il destro di leggere alcuni di questi libri rimarrà a bocca aperta per quello che viene detto però sono scritte queste cose e guarda caso io non ho ricevuto né querele né proteste tutti zitti questo è quello che devo dire su questi libri che cos'è che li lega e qui veniamo alla signora una specie di filo rosso una specie di ricerca durata 30 anni perché io per 30 anni sono stato funzionario di polizia che corre appresso al senso della legalità a cosa significhi se valga la pena difenderla che cosa sia e che cosa non sia se disgiunta da un sistema morale allora la soluzione a mio avviso è che il fatto del rispetto delle leggi puro e semplice assolutamente non basta non basta perché pensateci bene no? il secolo scorso ci sono state leggi razziali era legale no? mandare gli ebrei ai campi di concentramento pensate a Hitler Hitler ha raggiunto il potere mica facendo un colpo di stato essendo eletto e poi ha fatto delle leggi che creavano la distruzione di un popolo quella era legalità o no? formalmente era legalità perché si rispettavano le leggi che secondo quello che era la costruzione del tempo andavano rispettate quello che viviamo noi adesso qui in Italia e vi invito a riflettere su questo è un qualche cosa di simile invocare la legalità in un paese che non sa più che cos'è democrazia è illusorio in un paese dove il falso in bilancio non è più un reato e cioè significa che io che ho una struttura produttiva posso mentire tranquillamente tanto non pago non pago le tasse non vado in galera e addirittura quasi mi chiedo lo scusa è legale tutto questo in Italia allora io mi chiedo la legalità basta da sola e rispondo secondo me no e vorrei sapere la vostra opinione quindi chi vuole aprire un dibattito su questa cosa io sono pronto se c'è qualcuno che vuole che deve fare delle domande per quanto riguarda il libro altrettanto pronto c'è qualcuno che vuole intervenire prego le posso chiedere per cortesia conoscendo la Sardegna come mai qualcuno ha pensato di inserire la Sardegna in un circuito drogale di droga perché per una ragione no espongo il mio punto di vista arrivare in Sardegna con dei carichi bisogna arrivarci arrivati in Sardegna bisogna stoccarla da qualche parte perché il consumo di un milione e mezzo di sardi pastori eccetera in mezzo ai nuraghi non è che possa far arricchire molta gente e molto fresco e poi farla direttamente sul continente per farla girare con automobili camion treni aeree quello che si vuole lungo la penisola senza avere questa e naturalmente ognuno di questi passi diventa un pericolo perché controlli agli aeroporti ci sono ai porti c'è la polizia ai porti c'è la finanza diventa complicato e ci sono più occasioni di poter cadere nella trappola che le forze dell'ordine che parlo con il territorio allora io la ringrazio per questa domanda e siccome per tanti anni mi sono occupato di questa cosa le posso rispondere tranquillamente il mercato sardo è stato appetito per molte ragioni il primo fra queste è una grandissima disoccupazione giovanile nella quale attecchisce l'eroina abbastanza facilmente io ho visto passare da poche decine di tossicodipendenti per morfina che avevano preso in ospedale nel giro di due o tre anni dopo il 75 dopo una famigerata legge che ha legalizzato l'uso dell'eroina a 5.000 persone che la usavano tutti giovani e tutti malandati cioè c'era un palco di persone pronto a tutto per avere questo per chi conosce l'eroina sa che quando l'hai presa la prima volta al 90% sei fregato per sempre e quando sono riusciti in quest'opera questa manovalanza ha assunto in sé tutti i compiti che prima assorbeva la vecchia criminalità non ci sono stati più ladri professionali rapinatori professionali prostitute professionali truffatori professionali tutti sono diventati coloro che sfruttavano il tossico dipendente che andava a rubare a rapinare a prostituirsi a fare truffe eccetera l'eroina è una bruttissima bestia che si fa la strada da sola tanta eroina arriva e tanta ne viene venduta a Cagliari costava più che in continente costava allora 250.000 lire a dose e tutti i tossicodipendenti dovevano avere nelle tasche queste 250.000 lire la sera perché se no per loro era finita quindi una situazione drammatica e il mio ufficio può vantarsi che poi è stato distrutto guarda un po' può vantarsi di questo ha capito che era la fine della delinquenza normale non valeva più nemmeno fare i sequesti di persona se uno fa i conti quello che è il reddito dell'eroina è una cosa talmente enorme e ti mette a disposizione talmente tanta gente pronta a tutto che il delinquente che non fa questo passo è uno che non ha capito niente quindi la Sardegna era un posto fertilissimo per smanciare questa roba e tra l'altro poi il tossicodipendente che fa dall'atore che porta la roba l'ultima cosa che pensa è la polizia che lo blocca lui farebbe qualsiasi cosa pur di avere le sue dosi non ci pensa nemmeno a trappole tra l'altro poi non è questo il modo di combattere la droga perché? perché quando uno ha preso un carico che arriva con la nave o che arriva con l'aereo di qualsiasi quantità sia siccome all'origine ai trafficanti veri costa zero chi si è preso? il povero disgraziato che la porta? oppure i piccoli spacciatori? questi sono i nemici dello Stato? invece no invece il nemico sta ben oltre ed ecco il mio secondo libro dove siamo andati a pescarlo il nemico? nel triangolo d'oro in Thailandia quelli vanno combattuti quindi in tutto questo gioco l'essere o non essere un'isola è una cosa pressoché insignificante l'essenziale è che procuri molti danari a chi porta questa roba abbiamo assistito a una situazione mentre prima si trattava di importatori facenti parte della delinquenza piano 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 la cosa si è spostata e noi abbiamo avuto sul filo della Thailandia un famoso pianista il titolare di una boutique al centro di Cagliari una attrice abbastanza famosa un dentista tutte queste persone si erano consorziate in questo traffico direttamente con la Thailandia naturalmente consorziandosi con la parte delinquenziale quindi questa banda era fatta di un misto una parte erano delinquenti abituali l'altra parte erano quelli che finanziavano ma che anche loro andavano anche loro hanno fatto talatori anche loro hanno portato quindi quello che lei dice se è giusto in teoria in pratica non è così e ancora adesso quella della tossicodipendenza in Thailandia è un grosso problema un grosso problema perché quello che lei dice il pastore che sta sotto al duraghe è invece quello che attualmente detiene quando arriva la roba e sordeglia questa roba sotto il duraghe quindi i pastori hanno cominciato a far parte di tutta questa struttura già da allora già da quando la indagavamo noi bisogna stare attenti e bisogna conoscere quali sono gli effetti di una cosa micidiale come l'eroina adesso piano piano viene sostituita da un'altra cosa forse ancora più micidiale da certi punti di vista la cocaina questo fa della Sardegna un ottimo punto di incontro e di scambio perché deve sapere che mentre Camorra e Indrangheta si occupano prevalentemente di cocaina la mafia si occupa e ha i suoi laboratori prevalentemente di eroina e salve e indipendenza da questa dalla richiesta che c'è avvengono in Sardegna scambi perché la cocaina arriva dalla Spagna dal Maroc Spagna e poi dalla Spagna è facile raggiungere la Sardegna per altro verso da Napoli e dalla Sicilia si porta lo scambio e vengono fatti scambi a due contro uno quindi la Sardegna è un posto ideale dove ci sono porti si può attraccare anche dove non c'è un controllo e quindi io questo poi l'ho visto da Dalguero perché poi ho fatto un servizio pure a Dalguero quindi quello che può sembrare normale invece tanto normale non è ci sono altre mi scusi ci sono altre domande altre allora io vorrei chiedere a qualcuno di voi come intende la legalità cos'è la legalità cos'è la legalità noi parliamo tutti ne parla lì i giornali però poi quando vai a vedere ci sono molti dubbi su tutta quanta questa faccenda cioè è un'idea certamente è un'idea no? ma le idee che cosa sono? sono una struttura che l'uomo crea e che deve servire a qualche cosa o a spiegare qualche cosa o a fare qualche cosa dietro il sistema della legalità c'è la necessità del vivere sociale senza che uno azzani l'altro attraverso un potere centrale che viene rappresentato dal re dal capo tribù dall'imperatore dal presidente del consiglio e poi in definitiva dalla stessa polizia quello che non quadra è come nasce questa legalità noi abbiamo le prime tracce di legalità 3.750 anni fa la legalità c'è soltanto quando nasce la scrittura e non perché se una legge non è scritta tu non sai per che cosa sarai giudicato lo sa soltanto la mente del re o del giudice mentre invece quando è scritta i romani lo fecero nelle 12 tavole di bronzo ma prima di loro Ammurabi fece un celebre fece una celebre stelle con 220 circa 220 sentenze che spaziavano dal penale al civile e comunque era scritto là quello che potevi fare e quello che non potevi fare però come ripeto qual è la fregatura è che a seconda del tipo di potere e di chi lo gestisce questa legalità può essere usata anche contro i cittadini o anche soltanto contro i nemici che fanno parte di questi cittadini per avvantaggiare altri che invece sono amici questo è il grosso problema la soluzione che mi sembra più logica è appellarsi invece a un qualcosa di molto più antico e cioè che per l'uomo ha 4 milioni di anni e cioè ha cominciato a costruirsi 4 milioni di anni fa con i primi ominiti con le prime forme umane e per gli animali 2 miliardi di anni fa una cosa vecchissima appunto la struttura morale ora la struttura morale non è quella bacchettuna alla quale fanno riferimento le idee quando uno ti parla di moralità già pensi al peccato già pensi la mos in latino è la la costumanza la consuetudine la consuetudine civile quello che ti permette di stare gomito a gomito col tuo vicino senza urtarlo e sono una decina di regole che sono state individuate ben prima dei dieci comandamenti beh lei mi aiuterà ben prima diciamo del fatto che nella religione ci si avessero i riflessi di queste cose è stata individuata ben prima perché per tutto quello che vive sia esso verme sia esso lupo sia esso cane gatto o leone è indispensabile una sorta di moralità cioè la consuetudine che fa sì che tu possa sopravvivere insieme al tuo vicino non solo ma possa operare insieme al tuo vicino in gruppo ci si difende meglio e si offende meglio si cassa meglio per cui il gruppo fa la forza di qualsiasi forma animale questo tipo di moralità per quanto riguarda l'uomo è stato individuato già già ne parlava Confucio già ne parlavano i Romani già ne parlavano i Greci già ne parlavano i Babilonesi ora se noi distinguiamo fra sistema morale e sistema legale non coniugandoli insieme facciamo un pareracchio dal quale non usciamo allora io a questo punto quello che dovevo dire più o meno l'ho detto se c'è qualche domanda se c'è qualche qualche richiesta io sono pronto a ogni tipo di chiarimento volevo concludere se il pentito Cuscetta è ancora vivo no è morto comunque guardi non chiamiamo più pentito nessuno io non ho mai conosciuto un pentito di mafia queste persone possono essere collaboratori di giustizia perché tra l'altro voi Buscetta non si è mai ha detto sempre di essere stato fiero di far parte di Cosa Nostra e ha detto che era contro gli altri che denunciava perché gli altri avevano tradito i principi di Cosa Nostra lui non era pentito di niente quindi la parola pentito alla quale fanno riferimento molti giornali è una parola abusiva non è vero nessuno è pentito è un contratto che fai giustificato previsto dal codice io non so se voi sapete che gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno il diritto di non rispondere al giudice quando gli chiede voi da questa cosa da chi l'avete saputa non te lo dico tutti questi non te lo dico sono perché dietro questa obbligazione che è stata fatta c'è un accordo in un modo o nell'altro ti faccio dare la libertà provvisoria il magistrato è d'accordo passo sopra una contravvenzione hai fatto un furtarello ma se mi metti in mano l'assassino preferisco ecco questo è un lavoro tipico che può fare il poliziotto ma non può fare il magistrato quindi è indispensabile che ci si capisca bene e ognuno faccia il proprio lavoro il poliziotto o il carabiniere deve fare il poliziotto e il carabiniere il magistrato fa un altro tipo di lavoro però deve essere idealmente legato allo stesso fine fare giustizia e verità su un caso concreto io ho una domanda molto difficile da fare secondo lei dalla sua esperienza cosa può essere successo nella testa di Andreotti per far sì che un uomo come lui case a chiesa avesse certe frequentazioni e facesse certe cose allora io me la sono fatta questa domanda tante volte e una risposta me la sono data perché ho potuto toccare con mano perché è stato anche alla lontana ma è stato un mio avversario diretto e l'avversario lo pesi sul comportamento che ha Andreotti secondo me è il cervello più fine che ha generato il ventesimo secolo più acuto più capace di prevedere gli eventi di comprendere le persone di pesarle e di valutarle secondo me questa persona si è trovata al principio a fare una scelta la nostra costituzione è una costituzione bellissima per chi la conosce adesso ce la descriverà anche Benigni penso in una trasmissione televisiva è bellissima ma crea moltissima difficoltà in chi governa in chi può governare questo perché perché è richiesto da questa costituzione che chi è presidente del consiglio traga il suo potere la sua possibilità da una maggioranza che gli dia la fiducia io non so chi si ricorda di voi c'è stato un tempo in cui i governi duravano sei mesi perché bastava che o il partito liberale o il partito repubblicano ma partitini appunto dicessero no io non sto più nella coalizione e non si governava più era un qualcosa che una personalità acuta come quella di cui parliamo si è resa conto subito uno stato non può essere governato con una costituzione bellissima che non funziona tutto quello che noi costruiamo può essere bello quanto volete ma deve funzionare e allora non funzionava funzionava male con accordi sotto banco con cose che non andavano con tentativi di leggi tipo quella d'Ambroni eccetera allora una persona di questo genere che vuole governare perché è nato perché aspira a fare questo è per il bene del paese cosa può pensare io con questo sistema non governerò mai trovo un altro sistema e l'altro sistema è questo metto persone comode al posto giusto indipendentemente dal ruolo che io svolgo potrò manovrarle quando voglio questo sembrava l'uovo di Colombo no? una cosa addirittura bella per il popolo italiano se non che che cosa è successo? per mantenere questo assetto questa persona ha dovuto corrompere una marea di altre persone ha dovuto accettare il malaffare perché solo ricattando chi fa il malaffare io posso costringerlo a fare quello che voglio in particolare nel caso della motorizzazione civile mi sono chiesto ma che ne frega un uomo così della motorizzazione civile tanto da mettere a capo suo cognato cosa gli importa? beh poi l'ho saputo cosa gli importa chi ha in mano la motorizzazione civile ha in mano un ganglio vitale per lo Stato la nostra produzione più importante era quella automobilistica era quella dei grandi trasporti stradali ora io ho arrestato vari funzionari del centro superiore proprio della motorizzazione civile trovando delle documentazioni che dimostravano come erano stati fatti dei falsi per appropriare questa macchina quell'altra macchina quell'articolato quella motrice qual è il sistema? io se ho in mano la motorizzazione civile e il centro superiore prove posso mettere in ginocchio chiunque in Italia primo perché la produzione più grande è quella delle macchine delle vetture e degli articolati e dei camion secondo perché qualsiasi industria italiana qualsiasi si serve del trasporto stradale all'80% quindi ha dei grossi mezzi dei grossi articolati chiamati anche bisarche credo sì bisarche che debbono però passare un collaudo tutti gli anni allora se io voglio bloccare Rapirelli perché non fa quello che dico io gli blocco i bisarche mi voglio i mezzi perché perché la motorizzazione Pinco Pallino troverà quando va a fare il collaudo che c'è una vite che non quadra che c'è un freno che non frena abbastanza che c'è uno stop che non va bene per cui tornate tornate il mese prossimo e così via ecco come si esercita questo potere in maniera capillare e se lei tutta questa cosa la proietta in tutte le altre amministrazioni dello Stato nessuna esclusa nessuna esclusa neanche una mina vede che a un certo punto diventa una cosa vicidiale cioè questo cervello finissimo si trova a capo di una struttura che ha un tallone d'Achille e cioè lui è quello che pensa gli altri sono soltanto mascalzoni che stanno al posto dove non devono stare questo a che cosa espone espone al fatto che dietro qualcuno di questi mascalzoni ci va da un poliziotto che mascalzone non è e quindi o un giornalista che non è delinquente o che ha un interesse a una qualche inchiesta a quel punto lì che fa la persona intelligentissima quale alternativa ha se vive Pecorelli questo mi sfascia un intero un intero mondo no se si dimostra che io ho dato gli assegni alla banda della Magliana e questi assegni venivano dagli fondi neri dell'Eni una gran parte del mio mondo crolla e lei se fosse nei mani di questo personaggio così intelligente che cosa avrebbe fatto? c'era un solo modo per uscirne ma non credo che quella persona sia molto brava con la pistola o con la lupara e allora ti devi mettere d'accordo con chi queste cose le fa per conto tuo ecco perché pure una persona estremamente intelligente si è trovata in una sorta di tonnara sapete cos'è la tonnara tutti quanti no il tonno continua ad andare avanti andare avanti è costretto sempre ad andare avanti e si fa sempre più stretto alla fine non può fare altro che imbucare una sola porta e lui l'ha imbucata a parte tutto la mafia o meglio cosa nostra ha un parco di voti così ingente che può fare la fortuna o la sfortuna o la mancanza di elezione per qualsiasi candidato quindi non solo fornisce una manovolanza quando serve ma ti dà anche i voti per essere eletto e questo noi lo vediamo anche in quello che sta succedendo con l'Andrangheta in Alt'Italia a Milano allora quindi il discorso è che si è trovato lui in un procedimento in cui poi lui stesso è stato intrappolato e non è potuto più uscire da questo procedimento è stato processato tutti voi pensate che è stato assolto? no chi è che pensa che è stato condannato? posso vedere una mano? è stato prescritto ecco allora bene sappiate tutti quanti che Giulio Andreotti è stato condannato ma non è stato possibile applicargli una pena perché hanno passato vent'anni da quattro mesi da quattro soli mesi per scattare per far scattare la prescrizione questo istituto tipicamente italiano che veramente in tante altre parti del mondo non trovo uguale perlomeno nei termini io sarei dell'opinione che la prescrizione va bene quando non c'è un processo in corso cioè a me non mi beccano ho fatto un omicidio dopo vent'anni nessuno mi ha processato e vabbè chiudiamo tutto ma se dopo dieci anni dopo due anni dopo tre anni io vengo processato e rinviato al giudizio è del tutto illogico far proseguire questa prescrizione per arrivare al fatto che la difesa continua a taggeggiare questo non viene quell'altro non è stato convocato una cosa in altra e se arriva ai vent'anni con questo sistema chi ha buoni avvocati non paga mai e questo è un altro dei difetti di una idea e di una struttura che non funziona il codice di procedura penale unitamente al codice penale ormai sono uno strumento che va rottamato questo si va buttato che fate voi di un martello al quale si è rotto il manico e non batte più ne comprate un altro lo sostituite lo buttate perché la funzione del martello è quella di battere approfittando della gravitazione universale se non lo fa più non serve più il nostro sistema penale il nostro sistema di procedura penale non serve più chi di voi si aspetta giustizia non ha capito in che situazione siamo non lo ha capito io personalmente ho avuto un'esperienza allucinante avevo una piccola mansarda quando era a Calderi poi mi sono trasferiato al chiero e ho affittato questa piccola mansarda una persona che sembrava per bene sembrava questo non ha mai pagato io ho fatto un procedimento civile ne sapevo di penale di civile insomma vi ricordavo quello che si diceva all'università beh per uno che non paga non ha mai pagato non solo ho dovuto aspettare 4 anni per lo sfratto ma poi mi sono arrivati mi è arrivata un'ingiunzione per pagare quello che non avevo percepito cioè il fitto che questo non aveva pagato non so se mi sono spiegato allora questa è una piccolissima cosa personale se poi si aspetta se qualcuno di voi si aspetta giustizia da questo sistema si è sbagliato io la giustizia che conosco quella veloce la più veloce è quella che fa la polizia quando ferma qualcuno che ti sta tagliando la cola o i carabinieri quella è una cosa immediata lo fermo lo ammanento e lo metto in carcere quella è l'unica giustizia che poi potete aspettarvi il resto sono pure illusioni e ve lo dice chi ha difeso questo sistema per 30 anni e chiedo una piccola conferma pure al maresciallo mi sbaglio maresciallo? ecco quindi questo è un sistema che va bene soltanto per chi ha bravi bravi avvocati lui è una pacchia perché è una lunga la cosa e va a finire alla prescrizione sempre sempre e invece chi è che è colpito? il miserabile il ladretto quello che ha che ha preso qualche centinaio di euro dove li ha trovati nella tasca di qualcuno quello viene condannato non ha un buon avvocato e che non potrà mai aspirare alla prescrizione no? allora se per voi ecco perché io parlo di giusto e ingiusto ci sono molti errori che vengono fatti dietro queste due parole voi vi aspettate giustizia da questo sistema siete degli illusi scusate una domanda i fatti di cui si parla riguardanti Giulio Andreotti sono comunque fatti venuti un po' di anni fa quando non c'era ancora l'avvento di internet e quant'altro ora se tanti anni fa comunque nel periodo passato si è riuscito a tenere sotto controllo gli organi di informazione in qualche maniera secondo lei dovessero quei fatti ammesso che si possono contestualizzare in questo periodo dovessero essere caduti adesso con l'era di internet comunque con l'informazione più libera rispetto a quella di prima le cose sarebbero andate come sono andate anni fa o la gente saperebbe più quindi si potrebbe si sarebbe potuto cambiare qualcosa è bella domanda allora certo non c'era internet allora però le dico questo lei parla di informazione no quando arrestai l'ingegner Basili capo di gabinetto del ministro accanto alla stanza del ministro feci un comunicato stampa come si fa sempre quando tu avresti qualcuno perché è legittimo che la gente sappia che la polizia ha arrestato qualcuno il giorno appresso non c'era nessuna notizia né nei giornali di destra né in quelli di centro né in quelli di sinistra e quando io sono andato a chiedere all'opposizione e cioè a gente che a giornalisti dell'Espresso ho un nome in mente ma è inutile che lo faccio mi sono sentito rispondere che non era il momento politicamente adatto per dire che un capo di gabinetto di un ministro era stato arrestato allora da chi ci aspettiamo queste notizie da un picco pallino che scrive una cosa su internet non lo so voi di quello che ho detto quante cose sapevate fino a stasera abbastanza poche quindi adesso non c'è coscienza di quello che è successo allora però sussiste lo stesso impero criminale e quello che noi vediamo che succede oggi in Italia è il frutto di quelle radici perché tanti personaggi che sembrano illustri che diventano presidente e ci hanno qua e ci hanno là traggono la loro linfa proprio da queste storie da questo tipo d'impero spesso dal loro comportamento possono sembrare dei burattini o degli scementi io se ci avessi un sacco di soldi per esempio che dovessi scegliere prenderei una bellissima ragazza e me ne anderei alle pams e buonanotte questa mi sembra la cosa più logica senza senza andare a fare delle sciocchezze come noi abbiamo visto fare io certamente non direi oggi una cosa per tradirla domani sarei un cretino allora mi chiedo ma come mai una persona che fa queste cose arrivata tantinato tramite chi per conto di chi e per conto di chi è crollata eh fatevi questa domanda c'è un qualcosa di sotterraneo che agisce e che dà ordini sulla base della possibilità di ricatto e questa questa possibilità esiste guarda un po' anche per alcune strutture della chiesa parlo di New York mi scusi e cioè l'istituto che comprovatamente e ci sono dei libri scritti è stato l'arello di congiunzione di cui quel personaggio è stato al centro fra gli enormi profitti che venivano dai traffici illeciti in particolare quello di droga e la necessità di cambiare questi denari in denari puliti va bene allora quindi vediamo di che cosa stiamo parlando cerchiamo di individuare dove sono le cose che sembrano più vere e quelle più false lasciamo le perdere quindi chi dovrebbe dare questa informazione Francesco che dice abbassa Andreotti o chi o chi non sa come stanno le cose quest'internet può essere tutto e il contrario di tutto lei non sa chi scrive io posso avere cento persone che scrivono su internet per conto mio per cui quella verità che lei si aspetta può diventare la bugia che domina questo è internet quindi attenzione è un mondo diverso ma può essere strumentalizzato come quanto l'altro e io continuo a ritenere l'impero sotterraneo e criminale sussista ancora adesso opinione personale tre cose velocissime fino agli anni 90 stato mafia erano collusi adesso dove più il confine stato in realtà fumitici e mafia guardi l'altro confine la mafia prima si occupava di drogheati di prostituzione quando si è spostato verso la finanza allora c'è il quinto libro che sto scrivendo e che diciamo ho dovuto lasciare a metà perché finalmente ho trovato un editore che si è interessato al come io scrivo e però vuole dei racconti non vuole libri diciamo abbastanza lunghi in cui si sostiene con dati di fatto come si è fatta una certa indagine vuole molto più semplicemente dei caratteri delinquenziali criminali ma anche politici che io ho incontrato nella mia carriera nel mio lavoro e fare di questi una serie di una trentina di racconti e io approfitto di questa cosa ho mollato quel libro ho cominciato a fare racconti però il quinto libro parla della criminalità di cui parla lei cioè la mafia ha trovato la mafia cosa nostra la indrangheta la camorra hanno trovato un sistema di investire di investire queste enorme quantità di danaro una volta che è diventata pulita cioè io ho una massa dunque noi stimavamo 150 mila miliardi all'anno nel 1982 più o meno 82 83 il provento del traffico di supercenti di Cosa Nostra lei pensi un po' da allora che cosa è il montante di questi capitali enorme e allora cosa è successo tramite queste banche che facevano da intermediari un'altra era la banca Rasini non so se avete sentito questo nome di Milano che era la banca della mafia che serviva a pulire i danari e poi tutti questi grandi capitali li devi investire cioè devi fare qualcosa perché li vetti sotto al mattone per cui cosa è successo c'è stata una migrazione di alcuni boss abbastanza importanti nell'Italia del nord in particolare in Lombardia e io mi sono occupato di questa migrazione di quello che facevano queste persone queste persone compravano a blocco a blocco banche industrie una di queste industrie tra l'altro è molto nota perché fornisce televisori e macchine da ripresa alla stessa RAI guardi un po' stanziata ad Abbiate Grasso dove è il centro di questa dove è il centro di questa indagine che ho fatta e che riguarderà l'altro libro va bene abbiamo trovato finanziarie della mafia abbiamo trovato di tutto e soprattutto abbiamo trovato la collusione fortissima perché venivano chiamati nelle intercettazioni che facevamo noi con un magistrato della procura della Repubblica di Monza e con il comandante della compagnia di cui l'eroico maresciallo che ha fatto l'inchiesta insieme a me era capitano quindi pensate un pochettino che tipo poi ovviamente i carabinieri hanno sistemato la cosa perché con tanto rispetto che porto all'arma le sue cose se le sistema sempre come deve anche se con poca polvere con poca cosa e quindi voglio dire che questa è la situazione la nostra industria vive con i soldi della mafia il grosso problema è che se aboliamo i mafiosi il traffico di droga va a finire che il nostro pillo diventa una schifezza questo è il grosso problema cioè voglio dire le implicazioni di tutta questa cosa non sono piccole sono enormi sono enormi e tra l'altro se tu li vedi a Milano questi personaggi già che cravatta capito e quindi con questo dobbiamo fare i conti oggi ma soprattutto dobbiamo fare i conti con un'altra cosa con una classe dirigente che è stata infarcita di mascalzoni di gente condannata di gente rinviata a giudizio di gente sotto processo per reati gravissimi e sono lì e votano per noi e fanno per noi le leggi o le vietano queste leggi allora pensate a questo quando vi sarà chiesto il parere in forma ufficiale ricordatevi di queste cose questa è una classe che ha tradito se stessa la nostra classe dirigente ha tradito se stessa io ho cercato disperatamente di credere in qualcuno sono sempre stato smentito sono sempre stato smentito e c'è da dire che io politicamente non mi sono mai esposto nel senso che sono stato 30 anni in polizia e ho ritenuto giusto non votare cioè il poliziotto e il magistrato non dovrebbero neppure poter votare perché perché farebbero differenza tra tizio e cario a seconda del colore che porta sulla giacca e questo non è giusto il poliziotto è tale e quale o il carabiniero è tale e quale chiunque tu sia per cui deve essere avulso dal lagone politico qui è il contrario i poliziotti li tiriamo fuori vabbè non tutti e che facciamo facciamo io credo che tutti quanti noi siamo chiamati a una grossa sollevazione morale questi se ne devono andare a casa tutti forse pure Grillo per dire perché quando uno comincia a mettere becco nella politica e accetta quel gioco è già perduto con questo sistema quello che c'è da dire è che invito chiunque è a guardare dentro se stesso e a chiedere ma io faccio veramente quello che dovrei fare moralmente parlando e non parlo della morale della chiesa parlo della morale laica rispetta la parola rispetta i parti non mentire non testimoniare il falso non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri faranno a te farebbero a te questo lo dice Confucio Confucio è un personaggio che è nato 500 anni prima di Cristo allora ricordiamoci di questa cosa senza moralità laica non c'è legalità e quindi spazzolare tutti quanti quelli che cercano di illudere il prossimo scusate grazie di tutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti